Questa volta rispetto agli altri eventi mi porta a casa la leggerezza di un'avventura perché tutte le volte in cui ho partecipato agli eventi ho fatto sempre delle cose diverse e questa volta sono stato veramente stupito dalle varie sorprese che ci sono state quindi l'ho vissuta proprio con un'avventura. L'esperienza è andata benissimo, non avevo dubbi perché non è la prima volta ne ho fatti 4 o 5 tra i 20 che fossero trasformativi o altre cose e tutte le volte comunque nonostante sapessi che sarebbe andato tutto bene mi sarei divertito ogni volta è sempre un qualcosa in più, c'è sempre un valore aggiunto. Consiglierei questa esperienza perché ogni volta in qualsiasi momento di qualsiasi evento che ho vissuto succede sempre qualcosa che non era stato previsto e che comunque aiuta sempre le persone compreso me a trasformarsi anche su cose su cui non si erano soffermati, non avevano pensato o che hanno scoperto in vari momenti come alcune paure che vengono fuori per cose che non conoscevano o altro quindi lo consiglierei per quello perché non ti aspetti mai che cosa può venire fuori. Io mi sentivo in una situazione un po' apatica della vita di tutti i giorni stando nella mia società e tutto non avevo aspettative perché ho imparato a non averne però adesso rispetto a prima mi sento molto carico proprio grazie a questa esperienza. Una cosa che non mi sembrava possibile era partire con quello che voglio fare della mia vita, del mio progetto di vita adesso invece lo vivo come più che possibile. Quando sarò a casa metterò in atto tutte le cose che ho promesso a me stesso di fare proprio per il mio progetto di vita. Ho sempre detto fantastico però stavolta dico avventura, proprio ho vissuto un'avventura. Patrizia ti ringrazio tantissimo come sempre e grazie a te ogni volta diciamo che rispetto alle varie altre esperienze che ho avuto con te da cui sono uscito da certe situazioni adesso mi stai aiutando ad andare nel futuro. Diciamo che sono uscito da un passato burrascoso e adesso invece sto mettendo sempre più tasselli e punti per un nuovo futuro per cui ti ringrazio tantissimo perché grazie a te sto facendo sempre più passaggi. Grazie mille.